E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! E' lo sfiato! Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo. Questa è la tua sfida. Questo è WRC 3 E' lo sfiato! Per velocizzare anche i video. Ok, ci sentiamo poi al termine del video. Buona visione a tutti quanti! Grazie! 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 La Germania è tappa ufficiale WRC dal 2002 e il suo rally viene interamente corso su asfalto. La tortuosità dei percorsi favorisce un approccio aggressivo e premia i piloti dalla guida attenta e precisa. Finistra 3, barriera all'interno. Destra 3, molto lunga, edificio all'esterno. Finistra 6, più d'osso. 60 e sinistra 3. 40, poi destra 5. 40 e sinistra 5. 60. Sinistra 4. 40, destra 3, stringe, su tozzo. Sinistra 4, muro all'esterno. 100, destra 3, stringe. 80, sinistra 6. 60, sinistra 3, muro all'esterno. 60, su tozzo, destra 3. Sinistra 5, poi destra 4. 80, sinistra 5, stai al centro. 40, sinistra 6, lunga, su forco. 80, sinistra 3, alberi all'interno, poi destra 2. 60, sinistra 4 e destra 3. 40, sinistra 3. 100, su tozzo, poi sinistra 4. Destra 4. 40, sinistra 4. 300, apri. Salto. Destra 6, in sinistra 6, poi destra 4, in sinistra 5, apri. 60, stai al centro. Salto. 100, destra 4, in sinistra 2. Su pavè. 100, destra 4. Lunga. Sinistra 6. Sinistra 5, lunga. Poi destra 3. Sinistra 4. 200. Destra 3, su asfalto, lunga. 100. Sinistra 5, diventa sinistra 3. 80, traguardo. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 60. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. 60. 60. 100. 60. a tutti. 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 100. 60. 60. 60. 50. 60. 50. 60. 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